Eccoci e bentornati sul mio canale, tentiamo una nuova volta di prendere questa maledettissima DNA Bomb Siamo con l'Obsidian Steed, dato che me l'avete consigliata in tantissimi, con silenziatore e mirino red dot Sto seguendo diverse vostre indicazioni, ho rimesso resistenza perché senza sinceramente non riesco a giocare E adesso arriverà qualche tuno da questa parte Strano, oh, faccio, siamo sempre a deathmatch a squadre Piano Bello, ma che hanno aumentato il rateo al coso? All'Obsidian? Perché mi è sembrato che ha sparato più colpi, raga Ha sparato più colpi del previsto Piano Ma chi è? Laga Fai trickshot con... con l'arma Incredibile Basta, questo ha rotto... Mi hai rotto l'anima, tu e... e i tuoi trickshot Aspetta Paura che... Rinasce qualcuno Aspetta, aspetta Che cacchio, questo sta sperando di provare a farne uno Ahia, sono andato pure io Stiamo giù Piano sta Basta di camperare E basta E basta Sempre il solito Ma ammazza Sempre il solito Che è in continuo sartà È in continuo sartà Mi si è proprio rotto Desti maledettissimi salti Mi sono proprio rotto Mi hanno rotto l'anima Questi salti Non so voi Mi hanno proprio rotto l'anima A me I salti Piano Questo che l'ha ammazzato Non lo cacchio Guardali come camperano Mamma mia Se può giocare così Se può giocare così Allora Se lanciassero Un bel UAB Io sarei un po' più tranquillo Più che altro che sapendo Cacchio sta Ma questa tutta la partita così Si deve fare Basta Che cacchio Tu e sti cacchio di trickshot Esce nessuno Guarda che me Che cacchio Guarda chi me è dovuto Non ammazzare Il cecchino Mi è dovuto non ammazzare 15-18 Ma non capisco Ah vedi Ma è un 3 contro 3 Infatti il problema grosso Ormai ragazzi De 6 partite È che purtroppo Non si trovano Proprio più giocatori Ma soprattutto Deathmatch a squadre Che è La modalità Più importante Desta Del gioco Perché come sapete Deathmatch è quello Che spinge sempre De più Però non capisco Oh cacchio E basta Non sarà Affatto facile Cacchio Fai Eric ecco Questo E basta Sempre tu A rompere Lamo Uno sta Là sopra Sempre Sempre i stessi punti Comunque stanno Bello Due C'è dove E basta Tipo un altro Piano Paura che stanno Qua sopra Aia Dietra le spalle Dietra le spalle Ok ma Perché non mi regali La tua connessione Io penso che Se Avessi una connessione Migliore Riuscirei Tranquillamente A fare Molte più kill Ed è previsto Ce ne dovrei avere uno dietro Eccolo qua Sopra Sopra Basta È rotto l'anima Eccone uno che sta benì Eccolo Basta Garigamo 26 25 Qua non è rinato Nessuno Attenti regà Attenti Eccone uno E vabbè però Perché pure la mia mira Fa schifo così Perché la mia mira Fa schifo Fa schifo Oh e muori Ci dovrebbe sta un altro Bello Sa in come c'entra la gente Mi sembra Regà No Perché la cretinata Più stupida Annà a cercarli Annà a c'è in faccia Con tanto di tempo A disposizione Con tanto di tempo A disposizione Oh Parco cane Rivediamo Come ma Uno sputacchio Tran Morto Ta 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 tan Sono nato giù 37 37 36 Finalmente è entrato qualcuno In questa Maledettissima partita Piena di gente Che non si sa che cacchio Sta a fare Sera tutto quel cecchino Che stava cercando E fare cose Praticamente fuori Dall'immaginazione Controllo perso Com'è il controllo perso Regà Aia 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 Che poi la Royalty Che era la versione Che sarebbe La versione inferno Ma con Passa Ma quello è rotto L'anima Regà Quello nega Andiamo regà Bello di casa Bello di casa Piano Ma perché La cosa che mi chiedo io Ma come mai Mi rincula così tanto Il ball Pure col mirino Dovrebbe essere Straprecisa Come arma Invece Non capisco il perché Ci abbia tutto Sto Sto rinculo Atroce Uno là sopra Aspetta Senti regà Aia Dai ma sempre lui Regà Non è possibile Questo Che cosa ha Nella connessione Che è Ma lei non mi ha preso Non ero per niente Danneggiato Uno sputo D'insanite Vado giù Io Non so proprio più Che cosa pensare Non so più Che cosa pensare Ragazzi Veramente Che cacchio A me Mi fan cacchiare Sta cosa Quando me ne capita Uno che Che non è che Mi killa 20.000 volte Ma Proprio Con lo sputo Non c'è Se vede proprio Pare tipo Vederano Un altro Dai Questo con la SM1 Royalty Ha fatto La strage Ha fatto La strage Regà Ha fatto La strage Ha fatto Dai che Davo Una ricaricatina Il problema Che Senza silenziatore Non si può più Gioca Perché Se no È una Basta È rotto Proprio È rotto Balle Royalty Eccola qua 30 Provamola Va No Era Era mia Era mia Era mia Era mia Era mia Oh Senti No Come cacchia Vatta Spara prima A parte Stava camperato Come un Maiale Oh Uno qua sotto Uno qua sotto Si è andato Si Oh Sempre sto Questo qua Ma tutta la partita Così deve fare E veramente È ingestibile Il cecchino Che si gira Guarda Le versioni Royalty Che c'ha la gente Regà Fateci casa Le versioni Royalty Che c'ha la gente E basta Questo è un tuo cacchio Uscito STG 44 Royalty Io non lo troverò Mai Guarda 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 Senza manco mirato Cato morto L'STG Non c'è Sa proprio storia È un'arma Troppo Overpower L'STG No Dai dai Fammi far pareggio Dai Ma poi vedi Noi regà Non muoiono No 76 79 Perso Raga Qua proprio Niente da fare Spero comunque Che il video Stasse di vostro Gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace Il mio video Ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale Ti vediamo con tanti nuovi video Ti vediamo con tanti nuovi video